Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale, io sono Gigi e questo è YoRobbie. Se hai in progetto di realizzare una recinzione per la tua campagna, per il tuo orto o per il tuo giardino, segui questi semplici video e in 5 step andremo a realizzare una recinzione. Oggi in questo video step numero 3, i fili e i tendi filo. Andremo quindi a vedere come montarli, come sistemarli e come metterli in tensione. Bene, una volta piazzati i pali, se ti sei perso il video su come piazzare i pali, ovviamente te lo lascio qui sotto in descrizione e vattelo a vedere. Siamo pronti a realizzare la struttura portante per la nostra recinzione, quindi ad inserire il filo con i relativi tendi filo. Inserire i fili è molto semplice, tramite i fori presenti sui pali andremo semplicemente a far scorrere il nostro filo di ferro e il gioco è fatto. Ora che il filo è piazzato e quindi fatto passare in tutti i fori dei pali, lo andiamo a tendere manualmente e a fermare sui capi bastione, quindi sui pali, l'inizio e fine recinzione. Io manualmente ho cercato di tendere quanto più possibile il filo di ferro, ma niente paura perché adesso andiamo ad inserire i tendi filo. Per farlo è molto semplice, vado a tagliare al centro il filo di ferro, a sinistra lo vado ad assicurare al tendi filo e la parte invece di destra lo andranno ad inserire per permetterlo in tensione tramite il cricchetto presente sul tendi filo stesso, in questo modo. Niente di più semplice, è filo perfettamente in tensione. Ora siamo pronti per il prossimo e ora siamo pronti per farlo. Grazie a tutti